Andrea Alberto Pellegrini nasce a Civitavecchia il 22 dicembre del 1970. Nel 91, rientrando in caserma per il servizio militare, alla stazione di Ladispoli, cade sul marciapiede. La borsa si impigna allo scalino del treno e Andrea viene trascinato e russucchiato sotto le rotaie. Ha subito un'immediata amputazione alla gamba destra. È sempre stato un atleta e si avvicina sia alla scherma in carrozzina che al basket in carrozzina. Nel 95 partecipa gli europei di scherma in carrozzina in Gran Bretagna e vince la sua prima medaglia d'argento internazionale nella spada a squadre. L'anno successivo si aggiudica la qualificazione alle Paralimpiadi di Atleta 96 nella scherma e porta a casa ben quattro medaglie. Con la scherma in carrozzina arriva anche la seconda Paralimpiade, quella di Sydney 2000, dove Andrea conquista due argenti nel fioretto e nella spada individuale e un bronzo nel fioretto a squadre. Il 2004 è un anno indimenticabile per Andrea Alberto Pellegrini, che dopo aver vinto diverse competizioni approda le Paralimpiadi di Atene 2004 e conquista la sua medaglia più bella, la medaglia d'oro nella sciabola individuale. Arriva poi un'altra medaglia paralimpica, un bronzo alle Paralimpiadi di Pechino 2008 nella sciabola individuale. Un bottino di medaglie e risultati, quello di Andrea Alberto Pellegrini incredibile, inconociato da un'altra grandissima soddisfazione, il pass per volare ai giochi paralimpici di Rio. Grazie. Grazie. Grazie.